Il gruppo Benetton è presente in 120 paesi con circa 6.000 punti vendita. Benetton è un'azienda sempre interessata all'innovazione. La Benetton è sempre stata considerata pioniera nell'utilizzo dell'informatica per guadagnare vantaggio competitivo. Il caso più recente è stata la comparsa di iPad. L'azienda è stata fulminea nel rendersi conto delle potenzialità dello strumento e nel vorrelo adottare subito. iPad oggi è totalmente presente in tutti i C-level, presente nell'area manager e quindi è dato in dotazione a tutta la forza commerciale. Benetton ha sviluppato due applicazioni completamente differenti. La prima è un'applicazione dedicata alla visualizzazione di quello che è il catalogo. Questa è quella che permette alla nostra Salesforce di mostrare tutte le caratteristiche dei nostri capi. La nostra Salesforce ha sempre lavorato con dei cataloghi cartacei che venivano spediti 15 giorni prima della presentazione della collezione ai nostri agenti. iPad sostituisce questi cataloghi cartacei. Possiamo velocizzare a tagliare 15 giorni, a dare a loro del materiale aggiornato in modo che anche le cancellazioni o i cambiamenti dell'ultimo minuto potessero essere visibili immediatamente. Le persone ora possono guardare e condividere dettagli della nostra collezione che prima era impensabile poter realizzare in quei tempi. La seconda applicazione è quella che permette di vedere come la collezione presentata può essere posta all'interno del negozio e navigarlo in modalità tridimensionale. Utilizzando iPad e la sua risoluzione del video, i colori calibrati, noi possiamo mostrare immediatamente alle persone alcuni dettagli della nostra collezione che prima era molto più difficile poter mostrare. Abbiamo inoltre, da un punto di vista più tecnologico, trovato estremamente facile scrivere applicazioni e integrarle con il resto dei sistemi. Abbiamo creato una specie di app store interno da cui i nostri utenti riescono a guardare la versione navigando direttamente dal browser di iPad e cliccando sull'icona scaricano l'applicazione. Abbiamo l'encryption, la sicurezza e l'autenticazione. Nessuna applicazione può funzionare se l'utente non si è autenticato e le informazioni fluiscono in maniera affettata e sicura. Hanno anche la mail, il calendario, i contatti. Hanno la possibilità di avere tutta la loro documentazione e tutte le informazioni che necessitano quando viaggiano in giro per il mondo. La facilità di utilizzo, l'attenzione ai dettagli, sono cose che in altri dispositivi non si trovano. L'iPad è stato pensato come veramente una cosa che arrivava dal futuro e adesso praticamente non ne possono più fare a meno. La nostra sales force, i nostri executive, se non hanno l'iPad in questo momento si sentono un po' persi. iPad sia un driver per l'azienda, per poter essere moderna, per poter proseguire nei suoi valori fondamentali. In sostanza è un dispositivo che consentirà a Benetton di crescere.